Ed arrivano i primi fondi europei anche alla provincia che finora era finita nel dimenticatoio. A comunicare questo risultato il parlamentare di Forza Italia Roberto Pella. Si tratta di 18 milioni e 400 mila euro assegnati a Biella. Il deputato biellese è infatti relatore del decreto legge relativo al corretto utilizzo delle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza. Sono felice di poter dare questa notizia a Biella e presto incontrerò il presidente della provincia per attivare subito il coordinamento per i piccoli comuni. L'elenco dei lavori finanziati comprende la ristrutturazione di Palazzo Pella, ex biblioteca di Via Pietromicca, restauro e implementazione della biblioteca ragazzi, oltre ad una serie corposa di adeguamenti in varie scuole. Il polo dell'infanzia Cerruti, l'istituto secondario di primo grado San Francesco, tre primari, la Diamicis, 25 aprile di Chiavazza, il recupero di Villa Macchi a Cossila, abbandonata da 15 anni, in cui verrà trasferito il plesso scolastico della frazione. Completano il pacchetto quattro interventi sugli impianti sportivi, riqualificazione piscina-ribetti, manutenzione straordinaria del bocciodromo, ampliamento del campo di rugby e rifacimento della pista ad atletica dello stadio. Il 30% dei fondi saranno subito disponibili non appena i lavori verranno affidati. Una buona notizia, quindi recapitata come un regalo proprio nei giorni di Natale. Grazie a tutti.